Riguarda una scuola per croupier, gli addetti al gioco d'azzardo, uno stage che si è aperto da poco a Roma. Gabriella Lepre. Dove diamo la imparare a servire? Vedi le fiche come si deve? È così che si fa? Sì signor. Sicuramente questo croupier del film non aveva seguito un corso di formazione per imparare il mestiere. Qui si parte proprio da come prendere le fiche. Se amate il gioco d'azzardo e la roulette, questo è il mestiere che fa per voi. Siamo a Roma nella sede della Confesercenti dove è partito oggi il corso per croupier che comincia da Roma ma avrà luogo anche in altre città d'Italia. La professione che attira il tavolo verde in te stesso, io l'ho già detto, è una cosa che mi ha sempre affascinato, giocare al casino. Quindi poter stare dall'altra parte del tavolo dovrebbe essere una cosa molto simpatica. Penso che ci sia più speranza all'estero, perché in Italia i posti sono pochi e le speranze sono un po' lontane, ovviamente le cause burocratiche. Però non è mai detto che magari un'esperienza futura non si possa aprire qualche altro posto in Italia, per cui ritornare indietro. Però per il momento penso che più che altro mi aspetto di viaggiare. Questo dovrà tutto. C'è posto per una quarantina di allievi in ogni città con questi requisiti. Città compresa tra i 18 e i 35 anni, cultura media, ferina penale immacolata, capacità di concentrazione logica e disponibilità anche a viaggiare. Molto importante è anche la conoscenza di una lingua straniera, oltre a buone dosi di autocontrollo e di savoir-faire con il pubblico. Immediatamente dopo il corso si fanno degli stage formativi, manifestazioni promozionali nel territorio nazionale e subito dopo si può essere pronti per un imbarco oppure un contratto a terra in qualche casino fuori dal nostro territorio. I corsi per croupier si svolgeranno anche a Milano, Torino, Bologna, Ravenna, Verona, Trieste, Palermo, Taormina e Brindisi. Costano un milione di lire, ma le prospettive di trovare lavoro sono buone. Il croupier inoltre è un professionista che gira molto, guadagna bene, in più si diverte.